Tu non ti fermi neanche un secondo, è una delusione enorme, è enorme, la persona che ripete da un risultato. No, non lascia qua. Non mi abbatto, dico quello che penso. Non mi abbatto, non mi abbatto. Non mi abbatto, non mi abbatto. Se mi ce ne vanno, non mi abbatto. Lascia qua lui, se non si è più forte. Se non si non, non mi abbatto. Che si è più forte, non mi abbatto. Tipo in sottotitolo, non mi abbatto. Oppure viola per le trasmissioni. E poi deve lavorare con tutte le trasmissioni di questo. Noi, come è tesi che volentare. Ma avanti. E poi non mi abbatto. Ma avanti. Rapido. La mia madre è più forte. Sì Sì